Verdastri, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Voi avrete già sentito parlare di Edutube, quel fantomatico gruppo di persone che cercavano di portare informazione vera sulla piattaforma youtubica. Beh, da qualche giorno Edutube è diventata una associazione registrata, formata da diversi edutubers che dovreste già conoscere. Per fare alcuni nomi possiamo citare Ruben, King Elgard, Eliana di To the Science and Beyond, Ruggero Rollini, Luca Di Vincenzo, Marco Coletti, La fisica che non ti aspetti, Il Cuso, Giuseppe Alonci, La chimica per tutti e molti altri. Perché riunirsi sotto un'unica bandiera? Intanto per fare network, quindi collaborare sulla piattaforma YouTube e poi anche per uscire da questa piattaforma, creare degli eventi, delle conferenze aperte a tutti e anche magari delle iniziative nelle scuole. E questo in tutta Italia, dato che siamo distribuiti su tutto lo stivale praticamente. Tutto questo vi sarà rivelato tramite il sito ufficiale dell'associazione, che adesso è in costruzione, però a breve dovrebbe essere pronto. Per ora c'è la pagina ufficiale Facebook, il cui link vi lascio in descrizione. Di progetti ce ne sono già diversi in cantiere, quindi affrettatevi. Io credo che nella situazione in cui versa il web oggi, il creare una società fatta da persone valide e con una certa autorità nel loro campo di studio, sia un ottimo modo per porre un freno alla mala informazione ormai dilagante. E vi assicuro che seguire le proposte e le iniziative di YouTube contribuirà pesantemente a farvi diventare sempre più verdi. Grazie a tutti.